Antonio Zuccalà, 65 anni, ex dipendente del comune di Barrafranca, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un casolare di proprietà della famiglia in Contrada Friddari. A dare l'allarme il figlio, che non vedendolo rincasare, è andato a cercarlo in campagna, trovandolo morto ed ha avvisato i carabinieri. È stato assassinato con dei colpi alla testa e all'addome. Secondo gli inquirenti si è trattato di una vera e propria esecuzione. Zuccalà era stato a capo del settore economico-finanziario dopo una vita trascorsa negli uffici comunali. Era dipendente del comune di Barrafranca dal 1976. I carabinieri stanno interrogando i familiari della vittima. Siamo dispiaciuti e vicini alla famiglia dell'ex dipendente Antonio Zuccalà, in pensione da un anno e mezzo dal comune, afferma il sindaco di Barrafranca Fabio Accardi. Nell'ultimo periodo della sua carriera, aggiunge, Zuccalà lavorava all'ufficio trasparenza. Siamo molto preoccupati, commenta il sindaco, perché tutti gli omicidi negli ultimi anni compiuti in questo territorio sono rimasti impuniti. Speriamo che questa volta non sia così e gli investigatori riescano ad arrestare chi ha commesso l'omicidio.